la prima giornata del campionato giovanissimi b regionale tra l'aghezzo e il livorno sono i 2005 che sono in campo quest'oggi presta prova a passare ancora presta riesce a far partire il cross attenzione a derramini e la palla di incredibile salvataggio poi il colpo di testa in gol marcellino porta in vantaggio il livorno su questa doppia carambola il livorno passa con lo stacco di marcellino a porta vuota parte il lancio centrale verso cuochi attenzione cuochi tutto solo e livorno trova l'uno a zero anche in questa seconda partita secondo tempo cuochi tutto solo non ha avuto problemi a trovare la via del gol e così come è accaduto anche nel primo tempo livorno dopo pochi minuti trova subito il gol l'ha trovato marcellino il primo tempo lo trova adesso cuochi giovane ancora alza la testa parte il cross mazzi anticipato ancora da luschi poi in pallo qui mazzi prova il pallonetto mazzi rete che gol di mazzi l'uno a uno il pareggio dell'aghezzo con uno splendido pallonetto di mazzi che rimette tutto in discussione gaga riaperta uno a uno se la presta qui che supera suzzi presta rincorso da suzzi presta saltato il portiere ermini presta e c'è il vantaggio del livorno con presta anche in questo terzo tempo in tutti e tre tempi il livorno ha trovato il gol dello 0 1 dopo marcellino e cuochi adesso è presta diamo lo scatto ancora il solito di presta se la porta in avanti di testa presta 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 il pallonetto è un bel gol di presta ancora la doppietta per lui lanciato a rete il raddoppio del livorno in questo terzo tempo siamo 2 a 0 non cambia la sostanza livorno comunque avrebbe vinto 3 a 1 questa sfida con il punto conquistato della prima della seconda finita in parità e il terzo comunque sarebbe arrivato anche col 1 a 0 adesso va addirittura sul 2 a 0 insieme a mister stefano saviotera questa prima giornata quest'anno 2005 giovanissimi b una partita ecco che come l'hai vista è partita dove sapevo prima di farla che saremmo andati in difficoltà perché appunto è un gruppo nuovo in cui sono arrivati più di 15 ragazzi quindi abbiamo dovuto ripartire un po da zero tutti non hanno mai fatto un campionato di questo livello neanche amichevoli che magari si possono permettere squadre più blasonate partono da primi calci magari pulcini con queste categorie a giocare appunto abituati a giocare a questi su questi palcoscenici noi ancora noi ci sarà da lavorare ci metteremo rimbocchiamo le mani che facciamo il possibile delle buone cose sono viste che partita si si soprattutto l'atteggiamento di tra virgolette non mollare mai quello che mi è piaciuto magari ci vuole un po più di aggressività e capire un po più quello che devo fare nelle varie situazioni e cerchiamo appunto di lavorarci su questo sarà tempo si